buonasera siamo di nuovo insieme dopo aver postato i miei video su youtube e i miei cinque video su youtube qualcuno mi ha detto insomma che la qualità dei video ed è la verità anche questo di oggi non sarà meglio sicuramente cercheremo di fare in modo che qualcosa migliori nella qualità dei video si vedrà diciamo così per essere molto generosa con me stessa direi che questi video che posto sono vintage e quindi per ora sono così poi se ci sarà l'opportunità si faranno dei video migliori un'altra domanda che mi è stata fatta dopo i cinque video caricati su youtube è stata ma alessandro barbero ti ha risposto ha preso contatti con te no ovviamente ma guardate signori è normale è giusto che barbero non abbia preso contatti con me perché come ha detto lui stesso in un'intervista televisiva che lui si confronta con gli specialisti e lui si confronta anche con i suoi colleghi docenti universitari e io non sono una docente universitaria quindi nulla di strano che se barbero non si può non si confronta con me ora sempre lo stesso barbero riguardo a dante alighieri in un'intervista al venerdì di repubblica ha detto quando penso a dante la simpatia non è la prima cosa che mi viene in mente ma se mi invitassero a bere un caffè con lui mi precipiterei oggi ma se un qualunque docente barbero un qualunque docente universitario di oggi si fosse trovato a vivere al tempo di dante siamo sicuri che questi si sarebbero confrontati con dante adesso non penso proprio quindi se non si sarebbero confrontati con dante figurarsi con me dante è dante ok perché dico questo e beh dante chi era pensiamoci bene chi era dante 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 era un uomo del suo tempo ma non era un uomo nobile e dante probabilmente non era neppure laureato dante non era un docente dell'università e allora e chi si sarebbe confrontato con dante 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 era un uomo di florenza oggi firenze è una città meravigliosa che tutti andiamo a vedere ed ammirare ma ai tempi di dante florenze era davvero quel che oggi no era solo un piccolo piccolissimo centro e a livello culturale beh lo dice barbero stesso nel suo dante relativa arretratezza culturale della città alla fine del duecento arretratezza culturale quindi un docente da uno che veniva da una città che che aveva una palese arretratezza culturale in più vedete tutte le cose che noi oggi possiamo ammirare a firenze meravigliose beh allora non c'erano facciamo un esempio ai tempi di dante verso la fine del duecento si iniziò a costruire santa maria novella si costruì si iniziò a costruire santa croce si iniziò a costruire palazzo vecchio ma ai tempi di dante non c'era neppure la cattedrale santa maria del fiore al suo posto lì c'era santa reparata partecipò una riunione con 206 altre personalità della città proprio all'interno della chiesa di santa reparata guardate santa reparata ancora è visibile se andate nel nel sottosuolo del pavimento di santa maria del fiore ed è visitabile troverete i resti di quella che un tempo era santa reparata molto più piccola dell'attuale santa maria del fiore e ma a firenze però in quel momento c'erano tanti soldi che giravano tanti soldi che giravano era un fermento in fermento economico tant'è che barbero nel sudante dice una città come londra un fermento culturale e perché mi spiego vedete la storia non si fa con le risposte ma con le giuste domande perché la firenze del duecento la florenza del duecento della fine duecento ebbe così grande questo sviluppo economico e chi aveva dato i soldi a florenza come mai un piccolo centro com'era la florenza del duecento improvvisamente costruisce monumenti meravigliosi improvvisamente in città girano tanti soldi questo è da porsi come domani ma stiamo sempre a dante se gli intellettuali di oggi sarebbero andati a parlare con dante quindi dante era un personaggio che veniva da florenza un piccolo centro del centro una piccola cittadina del centro italia notare che come dicevo prima dentro la chiesa santa reparata ci furono duecentosei presenti ma era un consiglio allargato in cui si riunivano gli anziani del popolo il consiglio generale speciale del comune il consiglio di credenza il consiglio capitano del popolo i gonfalonieri i rettori delle arti 206 allora facciamo un raffronto macerata nello stesso periodo si riunivano in settecento capite la differenza oggi farebbe ridere ma allora era così quindi un piccolo centro un personaggio probabilmente non nobile o nobile in parte un proveniente da una famiglia di arricchiti perché tutta la famiglia di dante prestava soldi non sappiamo se ausuro o meno ma comunque erano dei prestatori soldi dante si trova abbastanza non lavora ma è un uomo d'arme combatte e si butta in politica si butta in politica e arriva addirittura la carica di priore e dice beh allora quando era priore magari qualche intellettuale di oggi ci sarebbe andato a parlare no perché allora i priori che duravano in carica due mesi erano contro la torre della castagna quindi non potevano parlare con nessuno allora che cosa succede poi che cosa è successo dante stava in un partito che ha perso ed è stato cacciato da firenze quindi vediamo un po la cosa allora dante aveva una famiglia aveva a viveva in una città medio piccola sebbene in quel momento fervente a livello economico ma a livello culturale assolutamente arretrata fece politica stette in un partito che aveva perso e dovette andare in esilio quanto aveva studiato dante poco nella firenze dell'epoca solo dopo la morte di beatrice ci dice barbero dante si mise a studiare per conto proprio eh sì bisogna essere non basta aver studiato per conto proprio per gli attuali docenti dell'università bisogna avere diciamo così una patente e quindi è chiaro che con molta probabilità dante non sarebbe stato minimamente avvicinato dai nostri docenti universitari se i nostri docenti universitari si fossero trovati a vivere in quell'epoca e gli intellettuali all'epoca di dante beh la divina commedia cominciò a propagarsi perché quando lui cominciò a scrivere altri la trascrissero e cominciò a girare a girare a girare ovunque fino a che divenne talmente importante questa cosa che entrò nelle università ma com'erano le università com'era com'erano gli intellettuali del medioevo allora come voi sapete il medioevo è un periodo lunghissimo quindi e a un certo punto però nel medioevo cominciarono a nascere degli studi che divennero le università andiamo a vedere com'era un'università importantissima l'università di parigi allora le goff noto storico francese nei suoi intellettuali nel medioevo ci propone è una dichiarazione di daniele di morlè chi era daniele di morlè daniele di morlè era un inglese che decise di andare a studiare a parigi e che dice daniele di morlè la passione dello studio mi aveva scacciato dall'inghilterra rimasi qualche tempo a parigi e qui ebbi solo occasione di vedere dei selvaggi installati con grande autorità nei loro seggi scolastici con due o tre sgabelli davanti sovraccarichi di enormi opere riproducenti le lezioni di un piano in lettere d'oro con penne di piombo tra le dita servendosi delle quali tracciavano gravemente sui loro libri asterischi obeli la loro ignoranza li costringeva a mantenere un contegno da statua ma essi pretendevano mostrare la propria saggezza con loro stesso silenzio non appena tentavano da aprire bocca udivo soltanto un balbettio infantile capita la situazione riflettei sul mezzo migliore di sfuggire a questi rischi e di abbracciare le arti che illuminavano le scritture diversamente che salutandoli al passaggio o prendendo delle scorciatoie per evitarli per cui dato che l'insegnamento degli arabi che consiste quasi interamente nelle arti del quadrivium viene impartito alle folle di Toledo mi affrettai verso quella città per ascoltarvi le lezioni dei più dotti filosofi del mondo vedete anche l'università hanno avuto dei punti alti e dei punti bassi perfino nel medioevo sempre poi si è rimestata la cosa per esempio questo Daniele di Morlet che cosa fa? e questo qui dice va bene a Parigi ci sono questi che dimostrano solo la loro saggezza col silenzio pretendono di dimostrare la loro saggezza col silenzio quindi sai che faccio neanche li saluto vado a Toledo perché proprio lì a Toledo viene impartito il sapere addirittura alle folle quindi vedete come gli intellettuali la cultura si trasforma per un periodo abbiamo le università un altro periodo abbiamo invece altri intellettuali poi altri luoghi fondamentali per la cultura medievale erano i monasteri e quindi tutto questo è molto ci fa capire che il mondo degli intellettuali è variegato e a volte sono gli intellettuali delle università ad emergere ed essere delle persone che poi hanno fatto la storia della cultura altre volte invece erano delle altre persone che si trovavano altrove semplice che cosa però si studiava poi è anche qui e perché ho parlato di che cosa si studiava a quell'epoca e perché ho parlato di Parigi tra le cose che si studiava c'era Severino Boezio ora Severino Boezio è un italiano San Severino Boezio e perché si studiava Severino Boezio? poi si studiavano altre cose ma andiamo a vedere cosa dice le Goff di ciò che si studiavano in Medioevo e anche riferito a Dante che cosa ci dice le Goff? le Goff ci dice benché abbia frequentato le università venne egli veramente a Parigi in vico degli strani parlando di Dante perché parla di Dante le Goff? perché lui ha fatto un libro sugli intellettuali in Medioevo ma all'interno di questo libro non ha inserito Dante le Goff e perché non lo ha inserito? e lui ce lo spiega dicendo comunque di essersi pentito di non averlo inserito comunque andiamo a vedere cosa ci dice le Goff mi pendo tuttavia di non aver dato la giusta importanza a grandi scrittori impregnati di formazione e spirito universitari la cui opera almeno in parte si rifà alla teologia e al sapere scientifico penso soprattutto a Dante geno, genio assolutamente inclassificabile e poi più avanti dice ha studiato davvero a vico degli strani? poi dice benché la sua opera già alla fine del quattordicesimo secolo quindi alla fine del trecento già era conosciutissima fosse materia di commento e la figura di Sigeri l'abbiamo detto l'abate di Saint Denis compaia nel suo paradiso in versi giudicati singolari Dante al di là della foresta oscura ha seguito Virgilio per altre strade che non sono quelle aperte e calpestate dai nostri intellettuali e quindi non ha inserito Dante perché secondo le Goff Dante al di là di questa foresta oscura al di là che fosse conosciutissimo al di là che già alla fine del quattordicesimo secolo quindi alla fine del mille e trecento già si commentava Dante lui ha seguito Virgilio quindi dice ha seguito Virgilio per altre strade però lo stesso le Goff perché qui è importante a volte gli storici si perdono nel racconto e non si rendono conto di ciò che hanno detto in precedenza perché ascoltate cosa dice le Goff nel successivo nel proseguo del suo discorso più avanti dice Virgilio infine Virgilio che avrebbe annunciato la venuta di Cristo nella quarta ebloga sulla tomba del quale avrebbe pregato San Paolo e avrebbe raccolto nell'Eneide la somma di tutte le conoscenze del mondo antico Bernardo di Chartra commenta i primi sei libri del poema come se si trattasse di un libro scientifico alla stregua della Genesi così si forma la leggenda che condurrà la me allora ma come ci dice che non ha introdotto nei suoi intellettuali Dante Alighieri perché ha seguito Virgilio e poi ci dice che Virgilio era commentato da Bernardo di Chartra e chi era Bernardo di Chartra? beh Bernardo di Chartra è famosissimo intellettuale del Medioevo a lui la famosa frase siamo nani sulle spalle di giganti e beh e come? allora Dante era pienamente nella cultura degli intellettuali del Medioevo e perché non l'ha inserito? beh ci sono molte motivazioni per cui Legoffe non ha inserito Dante perché Dante era un genio inclassificabile e quindi non poteva essere trattato dalle Goffe non riusciva a trattarlo appieno perché Dante a Dante non si può dare una seria collocazione è uno storico è un poeta è un teologo è un politico è un linguista è uno scienziato e Dante era tutto questo e allora allora Dante sì è vero è un genio del suo tempo ma forse proprio perché era tutto questo rispecchiava gli intellettuali di quel tempo perché la differenziazione in discipline è moderna per carità anche nel Medioevo c'era il teologo ma non era poi così bella scandita come abbiamo oggi in cui c'è non solo la materia ma la specializzazione della specializzazione della specializzazione tutto utilissimo e però si perde il quadro se io guardo un mosaico molto da vicino e conosco tutto su una tesserina il colore il materiale eccetera ma se sono troppo vicino non so che quella tesserina fa parte di un mosaico e non so neanche cosa rappresenta il mosaico quindi cosa mi serve sapere tutto tutto di quella tesserina se quella tesserina non la inserisco in un quadro in un mosaico beh nel Medioevo non succedeva proprio così era molto più l'intellettuale aveva conoscenza teologica scientifica oggi diremmo naturalistica spesso e volentieri erano anche artisti pittori scultori ma ritorniamo di nuovo a Parigi e ritorniamo a quello che ci dice sempre Le Goff e cosa ci dice Le Goff sempre riguardante Parigi? ci dice che ci riporta un pezzo di Filippo di Arvent in una lettera dedicata a un suo discepolo e questo dice lo spirito dell'amore e della scienza eccoti per spirito spinto dall'amor della scienza eccoti dunque a Parigi e tu hai trovato quella Gerusalemme che tanti desidero e la rimora di Davide del saggio Salomone gli si affollano una tale quantità di chierici che questa è è sul punto di sorpassare la numerosa popolazione di laici fortunata città dove i libri santi sono letti con tanto zelo dove i misteri più complicati sono risolti grazie ai doni dello Spirito Santo dove vi sono tanti professori eminenti e una tale scienza teologica che si potrebbe chiamarla la città delle belle lettere e come dicevamo sul video Dante Alighieri ma come? Parigi la città delle belle lettere e poi il volgare la lingua unificata scritta in tutta la penisola italiana in Italia c'è stato e in Francia non hanno prodotto nulla ma soprattutto chiaramente il periodo di Arvin in cui viene scritto questo è un altro periodo rispetto a quello di Molin ma siamo lì quindi vedete a seconda di come di chi scrive di come si giudica si vedono le cose in maniera difformi ma l'altra cosa che colpisce di questa lettera che qui si dice che a Parigi c'era lo studio della teologia molto sviluppato che cos'è la teologia? la scienza è un discorso intorno a Dio a te o Dio e addirittura era così importante che la comunità dei chieri ci sorpassava a quella dei laici stava per sorpassare quasi sorpassa a quella dei laici e come mai? veramente è singolare questa cosa perché altra domanda da porsi che gli storici non si pongono altra domanda da porsi come per la Firenze no? perché alla fine del 200 a Firenze girava tutto quel denaro perché c'era tutto quel fermento costruttivo nella Firenze di quell'epoca così qui perché a Parigi all'università di Parigi si discorre di teologia la città delle belle lettere abbiamo detto come mai non ha dato luogo a una lingua ma ancora perché la comunità dei chierici quasi sorpassa quelle dei laici ma chi c'era a Parigi cos'era a Parigi interessante perché la teologia appunto come abbiamo detto il discorso intorno a Dio dovrebbe essere lo studio principale del luogo della città dov'è il Papa mi sembra quasi banale pensate invece a quell'epoca a Roma l'università non c'era non vi sembra alquanto strano che la teologia si studiasse in modo approfondito a Parigi e addirittura a Parigi a Parigi non c'erano tanti laici c'erano tanti laici quanti chierici anzi addirittura i chierici quasi sorpassano i laici e perché a Parigi lassù nel nord della Francia sono domande sono domande certo è che se noi rivediamo la geografia della storia e come si è detto nei miei studi nei precedenti video la città di Roma cioè il luogo dove era il Papa era dentro Parigi beh allora si spiega si spiega perché l'università di Parigi era specializzata in teologia e all'interno della sua città c'era il Papa e si spiega pure perché a Parigi la popolazione di chierici quasi sorpassa quella dei laici e certo era tutto insieme e quindi è ovvio e Bernardo di Chartres Bernardo di Chartres è interessante perché Bernardo di Chartres è interessante perché Bernardo di Chartres studia fa Dante fa Virgilio scusate studiamo segue Virgilio e segue anche Severino Boezio un filosofo come vi dicevo San Severino Boezio che studierà approfonditamente anche Dante Alighieri ma che Dante Alighieri studi Severino Boezio è quasi scontato ma che Bernardo di Chartres utilizzi Virgilio e Boezio a Chartres in più Chartres era anche quella una importantissima università ora Parigi era quello che abbiamo detto fantastica meravigliosa eccetera no anche se quell'altro invece dice che saranno stati momenti diversi gli alti e bassi che può avere un'università però abbiamo detto Parigi la città delle belle lettere e non c'è la lingua unificata la città della teologia perché mai non si sa visto che a Roma non c'era addirittura l'università è abbastanza anomalo solo spiegato con la geografia della storia di forme da quella dell'ufficialità allora si spiega allora si spiega e poi che cosa ci dice un'altra cosa ci parla di Stasciartre dove erano pure anche lì intellettuali famosissimi le scienze eccetera e poi tutte queste università tutti questi intellettuali tutti questi personaggi e poi nulla mi spiego e questi personaggi avranno dato luogo a scoperte incredibili a un'architettura fantastica a dei dipinti incredibili bene se noi andiamo per tutta la Francia per tutta la Germania per tutta la Svizzera non troviamo autentici affreschi medievali dentro le chiese o dentro i palazzi del resto sono quasi tutte costruite come abbiamo detto nel diciannovesimo secolo è strano però le architetture ma ancora di più l'invenzione della carta Pioraco e Fabriano Pioraco provincia di Macerata e Fabriano provincia Ancone e come si diffondeva questa cultura se non attraverso la carta perché guardate tutti parlano della grande ed è vero della grande scoperta della stampa che poi anche lì ne parleremo della grande scoperta della stampa per la diffusione della cultura e invece la carta no ma ci rendiamo conto che prima che ci sia stata la carta dovevano scrivere su pergamena e la pergamena è una pelle di pecora ora per fare un foglio grande per carità ci voleva però una pecora ma quante pecore dovevano uccidere per fare un libro capite quanto poteva costare la materia prima del libro con la carta i costi si sono abbattuti improvvisamente ecco perché poi giravano dei compendi dei riassunti delle cose perché erano stati trascritti su carta ma la carta era solo a piorago fabriano perché ci vogliono secoli prima che mastri i cartai si spostino da piorago fabriano per andare a costruire altre cartiere che all'epoca si chiamavano qualche rie altre cartiere in altri luoghi allora se come dice le goffe gli intellettuali francesi erano così importanti ma perché non c'è stato nulla lì e le cose sono ma poi le goffe addirittura parla di una cosa incredibile cioè ci parla delle traduzioni di molta cultura che ci viene dal mondo arabo ed è vero perché il mondo arabo aveva conservato alcuni libri della nostra classicità e aveva preso anche altre da altri mondi aveva preso altre conoscenze e loro stessi poi avevano portato avanti le conoscenze ma che ci dice le goffe che gli italiani anche qui chiamare italiani gente che vive nella penisola italiana ma che italiano ovviamente non è non c'era l'Italia c'era l'Italia no quindi anche qui ma comunque gli italiani erano solo degli operai che traducevano poi invece gli intellettuali francesi ah gli intellettuali francesi facevano faville ma come se questi sapevano tradurre poi non capivano ciò che traducevano però guarda caso per quanto riguarda la notazione prima c'era la notazione boeziana poi le note un toscano poi sempre Fibonacci per quanto riguarda le scienze sono tutti italiani ma e questi intellettuali francesi dove sono? anche questo è complicato che cosa sono quindi gli intellettuali a quell'epoca chi era considerato un intellettuale per esempio Brunetto Latini era considerato un intellettuale? era un intellettuale chi scriveva di poesia? chi filosofeggiava? filosofia all'epoca era sia filosofia naturale che filosofia come la intendiamo oggi era un giurista un intellettuale? chi era un intellettuale? e questo bisogna anche questo comprendere una cosa è certa la maggioranza dei personaggi e delle persone che hanno vissuto in quei secoli in cui visse Dante quasi tutti erano andati a fare l'università a Parigi tra il 200 e il 300 soprattutto i francescani ora in Italia ce n'erano università come dicevo stavano anche a Macerata ma per dire Bologna e come mai sono andati tutti a Parigi? dice ah perché Parigi certo era comodo era dietro l'angolo eppure abbiamo tutti questi francescani che fanno l'università a Parigi e uno tra questi è interessante uno tra questi sempre del meglio si chiama Giovanni Minio questo Giovanni Minio ha un personaggio sconosciuto e più ma molto importante lui era nativo dell'odierna Morvalle provincia di Macerata e a un certo punto divenne francescano si fece francescano e divenne il capo uso termini non specialistici perché questo è divulgativo ed è per tutti il capo dei francescani della marca quindi lo dicono delle odierne marche e la sede dei francescani della marca era a Macerata bene a un certo punto questo dovette studiare e dove già in tardetà cominciò a studiare aveva quasi 50 anni e dov'è che va a studiare? a Parigi a Parigi era comodo essere il capo dei francescani della marca e andare a studiare a Parigi comodissimo poi siccome sai insomma l'età c'era eccetera alla Sorbonne di Parigi è stato trovato anche un documento in cui c'è una raccomandazione del Papa in modo da farlo finire gli studi e di farglieli finire e dice quindi stava lassù il documento sta alla Sorbonne e certo perché i documenti non si spostano comunque a un certo punto questo finita l'università diventa docente proprio lì alla Sorbonne di Parigi dopo poco non stiamo qui a dire perché e per come sta scritto storia dei popoli di Marco ovvero l'origine d'Europa dopo poco questo diventa maestro del sacro palazzo di Roma cioè maestro del palazzo del Papa sacro uno e trino Giovanni Migno e uno e trino certo è che se Giovanni Migno era capo dei francescani della marca con la residenza a Macerata e studiava a Parigi che era un'altra zona di Macerata e poi poi divenne docente all'università di Parigi e infine divenne maestro al sacro palazzo di Roma e Roma era dentro Parigi beh allora tutta la sua vita si svolse in quattro passi ed è più credibile è più credibile perché tutti questi viaggi come facevano a farli? Ho parlato di Migno ma potrei parlare di tanti altri un'altra personalità sempre di quei tempi sono i francescani veri e propri perché vedete i francescani sono arrivati subito ad avere un papa poco dopo la morte di Francesco e questo papa era un papa di Ascoli Piceno e insomma quindi non è che poi sia così vero che i francescani erano umili eccetera per carità magari erano umili ma erano molto e molto istruiti non che fossero poco istruiti come spesso si pensa altri intellettuali di quell'epoca poi intellettuali di quell'epoca ce ne sono tantissimi di giuristi come dicevo di pensatori Francesco Stabili ne abbiamo parlato con la cerba ma gli intellettuali hanno bisogno di confronto hanno bisogno di parlare tra di loro ecco il colloquio con le famose dispute medievali quelle che probabilmente Dante Lighieri andava a vedere a Bologna che si svolgevano sulle piazze bene con questo che si cresceva era in questo modo che si sviluppavano idee ideologie fazioni politiche nell'odierna penisola italiana soprattutto nelle Marche e beh questo c'era erano fazioni politiche era un po' di tutto ma solo con il confronto e come mai tutto questo ufficialmente non c'è in altre nazioni quindi in altre nazioni non abbiamo la lingua non abbiamo l'archeologia non abbiamo il risultato che potevano dare gli intellettuali sul territorio non abbiamo nulla ah però è successo tutto lassù eh accidenti accidenti proprio così vi faccio un esempio quando abbiamo parlato di Dante Lighieri abbiamo parlato di tutte le tutte di alcune di alcuni versi della Divina Commedia dove vengono citati luoghi marchigiani o personaggi marchigiani avevamo detto che non avevamo parlato di tutti solo di alcuni vi faccio un esempio ad esempio buono conte da Montefeltro ne parla anche Barbero perché la battaglia che combatte Dante e beh c'era anche sto buono conte che era morto non si sapeva dove fosse finito il corpo e Dante lo ritrova e che ci faceva buono conte da Montefeltro a combattere una battaglia tra Fiorentini e Aretità di fare tutto ciò credete davvero che non ci fosse nessuno alle spalle è abbastanza singolare questa cosa cioè laddove c'è l'imperatore laddove c'è il re di Francia ah non c'è niente invece a Firenze Siena Arezzo si combatte come matti ma scherziamo e perché perché dovevano essere così fanatici dell'imperatore o del re di Francia a Firenze a Siena o a battere la pesca con tutti i soldi che avevano non potevano crearsi un loro re un loro capo dovevano andarsi a prendere il capo in Germania in Francia o chissà dove per poi scannarsi tra di loro ma che senso c'ha ma come c'erano tutti questi intellettuali tutte queste persone così colte e poi c'erano soldi a Gogo che i fiorentini prestavano soldi a più non posso al re di Francia e poi non erano liberi autonomi diciamo ma c'era il comune e beh sì ma il comune quelli del comune erano di un partito che si rifaceva a un'autorità superiore che poteva essere il papa che poteva essere il re di Francia che poteva essere l'imperatore e allora allora davvero crediamo che il re di Francia l'imperatore potesse essere così lontano come ci dicono ma è veramente strano non è possibile quindi dove c'erano tanti intellettuali c'era il commercio c'era queste traduzioni dall'arabo quindi sono venuti fuori tantissimi libri nuovi c'era la carta che aveva permesso alla cultura di girare in maniera più veloce rispetto a prima sebbene ancora si scrivesse a mano perché alla stampa ancora non c'era i tempi di Dante i tempi e allora c'era non c'era la carta sì la carta sì la carta Pioraco Fabriano c'era e quindi non è che dobbiamo vedere solo il pensiero di questi intellettuali come erano intellettuali quanto pensavano no no andiamo sul pratico e come si scambiavano le notizie internet l'SMS Whatsapp cosa c'avevano c'avevano la carta questa c'avevano la carta che è stato il mezzo che ha rivoluzionato la cultura di quell'epoca altro che e dove si faceva la carta a Pioraco e come ci hanno pensato quelli di Pioraco un paesino oggi tra le montagne dice oh adesso sai che c'è ci mettiamo a fare la carta non sapevano che fosse però in più qualcuno gliel'ha tradotto perché la carta è il primo luogo in occidente ma in oriente già si faceva quindi sono arrivati i libri e dove sono arrivati sono arrivati in mano agli intellettuali in mano agli intellettuali e dove stavano intellettuali beh a Camerino Pioraco Camerino sono due luoghi vicinissimi quindi gli intellettuali di Camerino hanno dato la possibilità a questi di Pioraco di fabbricare la carta perché gliel'hanno insegnato perché loro hanno tradotto hanno capito e hanno agito attenzione essere intellettuale non vuol dire solo ah Beatrice sono innamorato di Beatrice vuol dire anche costruire fabbricare fabbricare cosa? i marchigegni gli ingegni marchigiani può essere? beh di certo che la carta a Camerino si è fatta e lì vicino c'è l'università di Camerino a Pioraco a Pioraco si è fatta e lì vicino c'è l'università di Camerino ah sì andiamo a vedere la storia di Camerino esattamente come siamo andati a comparare la storia di Parigi con quella di Macerata andiamo a andiamo a vedere Camerino e andiamo a vedere quello che c'era a Camerino e soprattutto perché la carta si chiama carta si chiama carta è paradossale allora lo sapete come si chiama Chartres letto da un italiano cartes carta Chartres è carta quindi Camerino era quel luogo che ha dato il nome a carta Chartres si scrive C-H-A-R-T-S cartes carta dite non può essere non può essere andiamo a comparare la storia di Camerino con la storia di di Chartres e vediamo che sono identiche ma come? è certo allora c'ha senso allora c'ha senso tutto allora ha senso anche che Bernardo di Chartres faccia degli studi su Virgilio e su Boezio allora ha senso perché qui altrimenti ci perdiamo ci perdiamo nelle favole la donna angelicata ma cosa voleva dire davvero cosa voleva dire davvero Dante che nel mezzo del cammin della sua vita mi ritrovai in una selva oscura che la dritta via si era smarrita cosa aveva fatto Dante per essersi smarrito in questa selva oscura perché ancora ce lo devono spiegare però Dante e spieghiamolo diciamolo davvero chi era Dante perché qui non si può più andare avanti in questa maniera facendo finta di nulla parlando di Dante come un uomo morto parlando degli intellettuali di quell'epoca come uomini morti e no sono uomini vivi hanno ancora da insegnarci tanto ma hanno da insegnarci tanto solo e soltanto solo e soltanto se noi se noi decidiamo una buona volta di capire che cosa ci hanno detto perché è inutile sapere se Dante c'aveva dieci terreni o tre terreni ma cosa c'era dentro la testa di Dante qual era la sua selva oscura perché si era smarrito che cosa era successo davvero e soprattutto tutti gli intellettuali che stavano intorno a Dante che cosa volevano davvero ma ancora di più tutti gli intellettuali di Chartres di Parigi eccetera perché se Parigi era macerata e Chartres era camerino come si sostiene in storia dei popoli come si sostiene in altri allora si capisce che dice qualcuno dice come riporta le Goff sui suoi intellettuali nel Medievo ho fatto un salto fino a Parigi è certo ma c'era da camerino sono intorno ai 50 km quindi anche all'epoca poteva essere fatto e poteva essere detto ho fatto un salto fino a Parigi ma ragazzi vi dirò di più Thomas Beckett Thomas Beckett lo mettiamo tra gli intellettuali e il Medievo non ce lo mettiamo decidiamoci vediamo Thomas Beckett assassino la cattedrale è stato fatto uccidere eccetera la casula di Thomas Beckett è conservata dentro il museo diocesano di Fermo nelle Marche chiaramente e come ci sta la casula di Beckett nel museo diocesano di Fermo ah ma te la raccontano così ah dice sai che c'è perché Beckett da giovane è andato a studiare a Bologna e lì c'era uno di Fermo che faceva l'università a Bologna no? faceva l'università a Bologna e allora Beckett gli ha dato la casula certo che Beckett quando era uno studentello si poteva permettere una casula di quel genere una casula d'arcivesco Beckett da studentello c'era una casula d'arcivesco e poi sai che c'è la regalava un amico di Fermo ma vi rendete conto? certo che è una cosa certa che Beckett a un certo punto andò a essula in Francia e dentro il museo diocesano di Fermo c'è la casula di Beckett sarà un caso? non lo sappiamo se sarà un caso o no di certo è strano ma vogliamo prenderci conto che ci sono tutte queste cose assurde e continuiamo a bamboleggiarci a bamboleggiarci quanto ci bamboleggiamo la spada è più corta la spada è più lunga la penna era d'oca oppure era di papera ma quante ne diciamo se vogliamo capire davvero gli intellettuali del medioevo dobbiamo capire il loro pensiero dobbiamo capire che cosa si c'è dentro i loro scritti cosa c'è dentro i loro libri e capire in tal modo la storia di quell'epoca relativa alla geografia perché guardate lo dice Legoff la storia è figlia nei suoi intellettuali poi chiaramente a livello teorico parlano tutti bene poi a livello pratico no dice la storia nei suoi intellettuali medioevo dice ah la storia è figlia anche della geografia e in Italia c'erano le città dove la gente si incontrava dove si poteva parlare eccetera quindi quello da poi un risultato ma come prima mi dici che la storia è figlia la geografia le città stavano in Italia e quindi c'era il commercio c'era la possibilità di incontro però gli intellettuali stavano in Francia e quando abbiamo i documenti arabi gli italiani sono solo gli operai perché poi i francesi a loro sì che li capiscono capite che è una cosa assurda ma è mai possibile che nessuno dica nulla è talmente lapalisiano che io non dico di fare uno studio approfondito come ho fatto io che da trent'anni che studio anche più di trent'anni che studio queste cose ma almeno così superficiale lo capisce anche un bambino degli elementari che non può essere non è una roba complicata è solo il frutto del nostro preconcetto e pregiudizio che non ci fa vedere le cose ma scusate lo dice Le Goff che la geografia è fondamentale per la storia che le città sono importanti per l'evoluzione però gli intellettuali stavano lassù e allora se gli intellettuali stavano lassù perché il rinascimento è tutto italiano perché il rinascimento è tutto italiano mi viene proprio da dire perché no no ma perché il rinascimento è tutto italiano è veramente sconvolgente addirittura nel periodo di Federico II come dice Le Goff a Palermo alla corte di Federico II c'era una corte rinascimentale bene a Palermo all'epoca di Federico II c'era una corte rinascimentale in Germania in Francia mai hanno dovuto fare i castellini letti nell'ottocento 1800 e però continuiamo a dire così continuiamo ad affermare cose non cose assurde cosa assurde io sono una persona molto pacata però quando è troppo è troppo cosa assurde quando vedo degli storici importantissimi che si perdono sulle pagliuzze e non guardano il gigante che hanno davanti è veramente non si può sentire né vedere ma questo lo fanno in tanti quasi tutti anzi tutti perché perché se no cioè queste cose sarebbero venute fuori ma vogliamo scherzare ma avete visto le goff cosa dice io guarda sono davvero sconcertata sono davvero sconcertata io non so più cosa dire non so cosa dire ritorniamo quindi ai nostri intellettuali che da noi ce ne sono tantissimi ma anche nelle marche e sono quasi tutti scomparsi è come se non fossero mai esistiti o quantomeno non li si ricorda come marchigiani per esempio questo Giovanni Minio quasi nessuno lo conosce eppure fu un docente dell'università di Perigi piaccia o non piaccia a Macerata c'era l'università all'epoca di Dante c'era l'università a Firenze l'università non c'era piaccia o non piaccia e questa università stava anche a Camerino nel Medioevo l'università piaccia o non piaccia allora pensate una cosa che ancora oggi ancora oggi eh ancora oggi l'università il magnifico rettore dell'università di Camerino se voi andate a vedere i diplomi di laurea si firma magnifico rettore dell'università di Camerino Conte Palatino del Sacro Romano Impero cioè il magnifico rettore di Camerino Conte Palatino e il Sacro Romano Impero occidenti è interessante poi vai a vedere perché sempre questioni intellettuali sono le leggi le leggi per fare le leggi per farle bene prendiamo Bartolo e Sassoferrado per dare l'idea di che cos'era un giurista medievale Sassoferrado anche quello sta nelle Marche non si sfugge nel territorio oggi marchigiano ma sapete quali leggi c'erano? leggi italiche? no no la valle del Potenza che è un fiume che scorre in provincia di Macerata dagli atti risulta essere dal decimo dodicesimo tredicesimo secolo tutti sotto la legge salica sapete cos'è la legge salica? è la legge dei franchi sali di cui si è parlato in altri video di cui l'esponente più importante che conosciamo è il re Clodoveo che come abbiamo detto vinse i Franco Ribuari e spostò la sua capitale da sua sonno a Parigi e allora sentite cosa dicono i documenti documenti dei secoli dodicesimo e tredicesimo quindi parlando del tredicesimo secolo parliamo anche del secolo di Dante gli abitanti della zona risultano signori che hanno origine dalla stirpe dei franchi tali sono almeno i più ricchi e potenti perché ben poco si sa dei sottomessi è difficile anche indicare in occasione di quale conquista si stabilirono nella vallata questi franchi si ha notizia di un intervento di Carlo Magno cioè noi abbiamo tutti i signori della zona che sono franchi tutti seguono la legge salica però sai forse Carlo Magno è venuto una volta qui è certo comunque che nel decimo secolo decimo secolo quindi il novecento vi risiedettero nei documenti infatti dopo il nome proprio delle persone si dice franco del genere francorum qui ad legge salicam vivit ora se gli intellettuali francesi di cui parla Legoff erano gli intellettuali di parte dell'ordierna regione merche beh allora si capisce quello che dice Legoff che c'erano un pochi che traducevano un pochi che capivano questi documenti un pochi se li passavano in più c'era la carta per poterli riprodurre in maniera comoda in maniera economica per l'epoca molto economica rispetto alle pergamenti è questo e quindi che cosa dire che gli intellettuali se sono veramente tali producono ricchezza per un territorio ecco che se nell'odierna Francia e nell'odierna Germania dove ufficialmente nel medioevo c'erano degli intellettuali non è stato prodotto nulla perché non è rimasto nulla mentre qui abbiamo esempi eclatanti il più importante il più eclatante di tutti è la carta ma poi l'architettura i dipinti gli affreschi il modo di coltivare i campi le strade beh allora qui gli intellettuali hanno prodotto molto la lingua la teologia le dispute teologiche che in questo momento forse ci appaiono lontani lontane ma che erano molto importanti per un uomo del medioevo e allora allora tutto ha senso allora possiamo cominciare a ragionare e allora le università nonostante che Daniele il Daniele dice che a Parigi c'erano solo persone che tacevano e pretendevano con il loro silenzio di essere rispettati nonostante questo probabilmente in altri periodi e sicuramente in altre università c'erano invece delle persone che magari non sono neanche ricordate che magari non le conosciamo o a maggior ragione le conosciamo con il loro nome francese perché ragazzi come ho detto per le città anche i nomi erano scritti in latino e quindi che cosa è successo che se poi Chartres la posizionano in Francia tutti gli intellettuali di Chartres o la maggioranza intellettuale di Chartres vengono tradotti in latino ma signori miei Sigeri la parte de Saint Denis del quale parla Dante pare che sia stato italiano ah sì pare eh perché ci sono documenti molto contrastanti per carità non voglio entrare in questa in questa diatriba eccetera ma questo è fondamentale perché gli intellettuali se sono davvero tali producono qualcosa per il territorio altrimenti sono solo sterile pur parler tra loro si fanno grandi ma non non danno niente alla società allora questi intellettuali del medioevo invece hanno dato molto alla società vi ho detto nonostante la cronaca di Daniele per quanto riguarda Parigi e i professori dell'università muti come stato che pretendevano di essere rispettati perché stavano in silenzio hanno dato molto a questo territorio e ne abbiamo le prove nell'architettura negli affreschi nella pittura nella letteratura nella lingua nelle costruzioni tecniche ma addirittura anche nell'agricoltura allora pensate che le marche sono una delle regioni ho scelto un libro da poco dove c'è una grandissima varietà biologica e come mai cioè non è che l'arte del coltivare è anche quella è un'arte non è che si inventa e se non ci sono degli agronomi delle persone che si occupano di questa cosa è difficile poi comprendere allora andiamo a riprendere tutte le nostre conoscenze cerchiamo di fare come si dice mente locale di ciò che abbiamo imparato e cerchiamo di capire che alcune cose che ci hanno detto sono in contraddizione che non possono essere andate come ci hanno raccontato e quindi proviamo a ripensare a cosa veramente sia accaduto perché probabilmente seguendo gli intellettuali possiamo anche seguire una geografia della storia che è assolutamente difforme da quella attuale perché nei luoghi dove ci raccontano ci fossero molti intellettuali non è successo niente o Dante stava in una città Florenzia che era messa male culturalmente ed è uscito Dante ma è che dici vabbè lui era un genio è uscito Dante e no perché da quella Florenzia che era messa male culturalmente è uscito Guido con i ninzelli è uscito Brunetto Ladini e dove avevano studiato questi nella Firenze arretrata culturalmente sono domande da forse il problema che noi spesso seguiamo le storie ci lasciamo affascinare dalle storie ma non ci poniamo le domande fondamentali spero di poter presentare altri video e per ora ci salutiamo così grazie grazie grazie